Tutto è pronto, dice il signor Barozzi, allora inizia in questo momento il match. Rodrigo Palassio che mette in movimento Coutinho, attenzione, subito la palla in profondità per Milito, è bravo però Guglielmotti ad andare in allungo per toccare all'indietro da Castellazzi, era una palla preziosa quella di Coutinho. Attenzione, Longo è la prima opportunità, questo tiro che termina alto, buona la giocata in profondità al minuto 9, il primo tiro verso la porta, lo effettua Samuele Longo, Cristian Kivu, cambiasso, 10 minuti di gioco. Palla che viene portata avanti da Kivu con un buon pelo d'erba, apre largo sulla destra per Zanetti, profondità dettata da Palassio, attenzione, può andare al cross, palla dentro, arriva Diego! Ebbè questa è un'azione facile, 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 facile. Andiamo a rivedere il tocco di Zanetti per il movimento di Palassio, Palassio colloca il pallone con scritto spingimi in porta, niente da fare per Castellazzi, è un giochetto per Diego Milito. Il guaro cambia tutto sulla fronte sinistra per la percussione di Imbaie che prova ad andarsene in allungo, attenzione, entra in aria, è atterrato, è implacabile il fischietto di Barozzi, dice che è calcio di rigore. E' decisamente bravo Roberto ad accelerare e a costringere Guglielmotti all'errore. Milito contro Castellazzi, parte il tiro, spiazza letteralmente, allora siamo al 2-0 doppietta di Diego Milito. Al minuto 10, al minuto 15, sfrutta questa opportunità dagli 11 metri. E siamo sul 2-0. Buono l'inserimento di Cambiasso, potrebbe caricare il colpo, allarga per Coutinho, posizione regolare, attenzione Coutinho che la va a piazzare, e ci vuole una grande parata di Castellazzi che evita il terzo gol. Però Cambiasso, Zanetti, vediamo se cerca l'affondo personale, certo che sì. Salta l'avversario, è in trenare della linea di fondo, c'è pericolo potenziale, ma poi riesce a chiudere con efficacia Cannataro. Riparte ancora una volta l'azione, parità gradevole, già due occasioni importanti trasformate in gol, una invece vanificata dal gesto di Castellazzi. Guarin prova il colpo dalla distanza, lì ha questi colpi Roberto, il calcio di Guarin, calcio di punizione battuto a sorpresa da Cambiasso, per Zanetti, Milito non riesce, Castellazzi come può, mette il pallone in calcio d'angolo e sarà il secondo tiro dalla bandierina. Coutinho pronto ad andare a batterlo dal lato opposto rispetto a quello della battuta precedente. Rapidissimo Cambiasso a battere questo calcio di punizione, ha sorpreso la difesa arancia, un po' di affanno per liberarsi in questa circostanza. Dalla bandierina a Coutinho, in corsa breve, palla morbida centrale, era un invito a nozze questo. Livaia va in 1-2 con Garritano, Garritano per Romano, si difendono bene i verdi costringendo solo giocate orizzontali, quando provano a verticalizzare come in questo caso trovano i verdi nel recupero del pallone. c'è Zanetti che recupera l'ennesimo pallone, Palassio che parte palla al piede, l'apertura per Coutinho, adesso si sviluppa 4 che attaccano con il movimento di Zanetti, che può andare al tiro, vediamo, palla per Guarin, e la conclusione è alta, conclusione è alta, pericolosissima, è una palla goal questa attenzione, Palassio buona la verticale di Milito, però bisogna andare a prendere al centro quel pallone, colpo di tacco per Coutinho, anche un po' di delizia per Palatifini, Coutinho ci prova e Castellazzi deve mettere il guantone ancora una volta, applaude il pubblico e ce n'è motivo in questo pomeriggio qua a Pinzoloro. Parte Zanetti, apertura, il movimento di Zanetti crea spazio per Palassio che riceve, cerca di andare sul fondo per il cross, e un tiro cross troppo forte e non è riuscito a metterlo dolce, questo pallone al centro e quindi imprendibile per Diego Milito, e l'arbitro è implacabile, comanda la fine della prima parte, parte Guarin, cerca il tiro forte con i pugni, si oppone Benez, Milito che recupera ancora il pallone, palla per Coutinho, azione ancora viva per i Verdi, con Palassio che allarga per Zanetti, Zanetti è contestato da Benassi, cerca l'affondo sulla destra, lo salta, è pronto ad andare al cross, parte la traiettoria verso il centro, Milito! E fa, e qua è da capire se è autogol, o se riesce con il petto, forse è proprio autogol, perché se la ride Diego, rivediamolo con la ripetizione dal basso, il cross, e si è proprio Ranocchia che di testa interviene, anticipando, ma mettendo alle spalle di Benez, e quindi siamo sul 3-0, non è Palassio per Milito, Neaia contro due, cerca di liberarsi, se ne può andare solo verso la porta, attenzione Milito, pretende di saltare Benez, che è quasi due metri, con un pallonetto, ancora il Guaro per Pupi, che se ne può andare di gamba veloce, eccolo qua, che è inseguito senza essere preso da Livaia, guadagna al fondo, il cross al centro, Ranocchia lontana, impressionante, si gioca veloci, si cerca di andare rapidi, verso la porta avversaria, con Milito e Pupi, sulla corsia di destra, arriva a rimorchio il cuccio, pronto a essere seguito, potrebbe caricare il destro, palla dentro per Milito, e ancora una volta ci prova, con questo lob, a scavalcare, questa volta cercando il pallontano, Big Belez, palla che c'è al mina fuori, ma applausi del pubblico, errore in mediana, fa partire un 3 contro 3, con Milito, con Guarin, con la palla dentro per Palassio, eccolo qua Rodrigo, e va a contrastarlo, proprio ancora una volta, Davide Guglielmotti, con la palla che termina, in calcio d'angolo, dalla bandierina, Wall-E, di testa, va più alto di tutti, ma è alta anche, sopra la traversa, la sua girata, verso la porta di Belez, attenzione Zanetti, attenzione pericolo, palla dentro, la porta è vuota, Palassio, il miracolo di Belez, ancora, la doppia girata, di Rodrigo Palassio, la grande risposta, di Big Belez, che reattività, Davide, Romano, cerca di far sviluppare, l'azione sulla destra, con Guglielmotti, ancora Romano, il tocco è all'indietro, con Palassio, che va subito in pressione alta, e ruva il pallone, attenzione, l'esperienza di Palassio, che può presentarsi, ancora una volta, ormai è una sfida, Roberto, tra Rodrigo Palassio, e Big Belez, è uno contro uno, lungo, è solo, e ancora una volta, Belez, ipnotizza Samuele, contro Silvestre, che mette fuori questo pallone, che va con grande qualità, Samuele Longo, a portare via, in anticipo all'avversario, adesso deve entrare in aria, si ingamba, e favorisce, l'intervento in chiusura, con la palla che termina, in calcio d'angolo, adesso gli arricioni, provano a imbastire, un contropiede, 1-2-3-4-4-4, attenzione, vediamo se si sviluppa veloce, la manovra, con un lancio dentro, per Pazzini, Barney in uscita, centro aria, lungo, Palassio, anche Silvestre, oltre a Livaia, parte la rincorsa di Coutinho, palla tesa, beniscono i pugni, vediamo, proprio loro che avanzano, vediamo se riescono a fare, un gol da qua, alla fine, ci provano, con questa palla dentro, il tentativo in allungo, da parte di Roberto Guseyè, ma non ci può arrivare, e l'arbitro che guarda il cronometro, dice che basta così, finisce con la vittoria, per tre reti a zero,